Volevo soltanto ricordare che vicino a questa città dell'uscita troverete delle cassette dove stiamo raccogliendo fondi per aiutare le emissioni è vero che avrete già pagato per entrare qui un prezzo del biglietto molto privato soprattutto voi delle petitive per esempio signora lei quant'è che ha pagato per essere qui? 18 18 e lei? niente è ingresso libero qua ma come questo? vabbè allora maggiore ragione riempite quelle cassette e risolviamo poi le offerte di me offerte di me assolutamente allora dai siamo pronti per il settimo coro il coro è il coro femminile Sofia di Cassano Magnaco e diretto da Stefano Torresana che ci è venuto a trovare con tutti i due cori infatti dopo si riempirà anche con il coro anche al 19 di mezzo quindi un bel applauso un applauso grazie 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 Dieci, bambino mio, ti presento il mondo. Entra, io sempre. Qual è il suo adesso? È il tuo figlio. Il tuo figlio è il tuo figlio. Il tuo figlio è il tuo figlio. Il tuo figlio. Il tuo figlio. Il tuo figlio è il tuo figlio. Il tuo figlio è il tuo figlio. Il tuo figlio. Il tuo figlio. Il tuo figlio è 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 il tuo figlio.